...maschile che incombe, notizia dunque, Kowalczyk fuori in semifinale, finale donne, Randal, Steyr, Kalla, Weng, Östberg, Kolb, tanta Norvegia che non... ...sull'acceleratore fa male anche tatticamente, vedete come ha chiuso il norvegese, lo svedese Alpharsson, fa la tattica, veramente per far andare avanti magari un compagno di squadra davanti, infatti ora c'è... ...Markus Elner, dietro Willeck Zanin, Emil Jönsson, Alpharsson, Harvey, dietro a tutti, Peter Nortu, vediamo... ...vediamo che combina Nortu su questa salita impegnativa, cerca di portarsi sotto Emil Jönsson, cerca il barco, gli svedesi però ne hanno, ne hanno come... ...in corsia interna c'è Willeck Zanin che si tiene stretto quel petrole rosso, di leader del turdeski dopo le prime due etappe... ...e c'è l'armata svedese davanti, tutti e tre là davanti, con dietro Nortu vediamo, saprà infilare in questa curva almeno per giocarci il secondo posto... ...importante il tempo di questa semifinale, poi la prossima con Cologna, con Pellegrino... ...Svezia, Svezia, Svezia, poi c'è Nortu che sopravanza Willeck Zanin, Harvey è sesto, rettifilo verso il traguardo... ...Nortu parte da dietro come il suo solito, con il sedia c'è Alpharsson davanti, Nortu trova però il barco forse giusto... ...Fa un po' da tappo Emil Jonsson che uomo, fa da tappo a Nortu, fa sì che... ...i compagni vadano... ...la Svezia ha un buon margine... ...buon margine sì... ...Petter Nortu, Willeck Zanin... ...sono indietro, quest'oggi la Svezia vola in Val Mustaier... ...1, 2, 3 della Svezia, Nortu che è quarto... ...3, 17, 9... ...Jonsson su Alpharsson al fotofinish... ...Nortu che take è quarto... ...un attimino Elmi Jonsson, perché tanto sapeva che lui nel finale poteva rientrare e così ha fatto... ...e rientrato in finale ha staccato un... ...tramente... ...e qui, siamo su Dario Cologna... ...davanti alla sua gente... ...è lui che... ...è forse il favorito assieme a Nortu... ...di questo... ...per fortuna... ...ancora una curva fuori di Tivilo verso il traguardo... ...Pellegrino, Cologna... ...Krog... ...un occhio anche al tempo... ...vi ricordo... ...Laccuser sono al momento Elner e Nortu in 3, 18, 1, 3, 18, 7... ...Patina... ...Patina Fede, patina... ...guai fermarsi... ...guai fermarsi... ...guai voltarsi... ...Pellegrino, Cologna... ...Krog... ...Valias... ...che ritorna... ...parzialmente sotto... ...buona curva intelligente... ...rischia un attimo a dare Cologna... ...sulle code... ...Pellegrino solitamente ha un gran finale... ...attenzione a Valias... ...ma Pellegrino è davanti con Cologna... ...non mollare sino alla fine... ...la battaglia... ...è piuttosto... ...veloce... ...siamo sui tempi dell'altra... ...a sinistra... ...lo vediamo... ...foto finish... ...siamo sui tempi... ...della prima batteria... ...Cologna... ...Junson... ...Pellegrino... ...Cologna... ...Valias... ...Fuori... ...dalla... ...Finale... ...Nortug... ...Edelner... ...in cabina... ...comunque... ...sì... ...una finale... ...una semifinale... ...questa appena affrontata da Kiko... ...si è girato troppo... ...da mio avviso... ...ha controllato troppo... ...e la tedesca... ...Partite... ...Hanakol... ...Partita la finale... ...Kikaranda... ...davanti... ...in fianco... ...Aidi... ...Weng... ...le due che... ...hanno... ...fatto vedere forse le cose... ...migliori... ...in questa... ...in questa sprint... ...della... ...Della... ...Val Mustaer... ...la meglio messa in classifica è... ...Kristina Steyra... ...grande giornata... ...comunque andrà a finire per lei... ...Covaltic fuori... ...Nella semifinale... ...Le potrebbe... ...pagare... ...a caro prezzo... ...questa esclusione... ...dalla finale... ...la Polacca... ...vedremo come... ...andrà a finire... ...Anche se la Steyra è lontana... ...intensifica 1.04... ...quindi la... ...Kovaltic... ...si tiene... ...la leadership... ...del Tour de Schiff... ...dovrebbe tenersi... ...la leadership del Tour de Schiff... ...poi vedremo con i calcoli... ...degli abbuoni... ...ma intanto... ...viviamo questo... ...ultimo atto... ...di questa... ...bellissima... ...desso sprinting notturna... ...quì in... ...Val Monastero... ...dove... ...c'è un Colonia... ...che fa sognare la sua gente... ...c'è un pellegrino... ...che tiene alto... ...il colore dell'Italia... ...c'è una finale al femminile con... ...certezze come... ...con ferme come Randall... ...e Kalla... ...sorprese... ...nello sprint come Steyra... ...come Weng... ...Ostberg e Kolb sono... ...sprinter pure... ...quindi tre sprinter pure... ...quasi... ...Randal che... ...pura più sprinter... ...non è... ...Ostberg e Kolb lo sono... ...al momento... ...Kalla... ...ha salpato su nelle sprint... ...e poi... ...Steyra... ...che è stata brillantissima... ...a quest'oggi... ...così come Heidi Weng... ...comunque... ...Kick Arrandall in... ...tutte le... ...le fasi... ...di questa... ...di questa sprint... ...sempre davanti a... ...a impostare il ritmo... ...davanti... ...eh... ...pattinando... ...guardando nessuno... ...non si gira mai... ...veramente... ...la forza... ...la forza di volontà... ...ma soprattutto... ...eh... ...consapevole dei propri mezzi... ...eh... ...ne ha ben d'onde... ...perché è veramente... ...un fisico potentissimo... ...e Andal davanti... ...ha vinto... ...sei volte in Coppa del Mondo... ...una tappa... ...Nel Tutti's Skill... ...prologo... ...di opera... ...fieto di lei... ...brillantissima prova... ...per la Oestberg... ...e poi c'è una Weng... ...che sorprende... ...e fa... ...selezione subito... ...Kick Arrandall solo... ...Eddie Weng... ...tenta... ...di tenere le code... ...dell'americana... ...ma... ...fa fatica... ...e la Weng... ...guadagnerà tantissimo... ...in classifica assoluta... ...così come... ...Cesine Steira... ...che dalla quinta piazza... ...dove portarsi... ...a ridosso della seconda piazza... ...è andata... ...proprio una marcia in più... ...non vuole... ...non vuole assolutamente rischiare... ...stanno patendo... ...gordate lo sforzo della... ...la tedesca di Steira... ...per... ...provare a tenere... ...ma... ...una pista da... ...una pista sprint... ...che... ...fa malissimo... ...non... ...non ha... ...Kik Arnandal qui... ...che fa... ...una curva eccenziale tranquilla... ...gara a parte per lei... ...gara a parte sì... ...Hedi Weng... ...passa ora... ...sebra una gara... ...da cinque chilometri... ...per... ...per i distacchi... ...inflitti... ...guadate come... ...sta dominando questa finale... ...Kik Arnandal... ...con una facilità... ...impressionante... ...disarmante... ...Kik Arnandal... ...non ce n'è... ...tripa per gatti... ...como io per atlete qui... ...mangia tutto lei... ...il piatto... ...della Valmustaire... ...la Norvegia per fare... ...seconda... ...e terza... ...e qui... ...anche Steira... ...brillantissima... ...con fermo... ...questo punto di vista... ...di una Steira... ...che ha fatto un capolavoro... ...er quest'oggi... ...be lei... ...ne ha fatti tanti... ...di capolavori... ...in questa stagione... ...e c'entra la sua... ...seconda vittoria... ...la Turides... ...la vince... ...mamma... ...grandissima... ...brillante... ...magnifica... ...Jandal già... ...seconda... ...lo scorso anno... ...dobbiaco... ...e quest'oggi... ...vince... ...la sua prima sprint... ...nel Turideski... ...Norvegia che sorride... ...con Östberg... ...e con Weng... ...con Kolbock... ...quarta... ...la tedesca... ...e Steira... ...che chiude... ...con un... ...ottimo quinto posto... ...faccio notare solo... ...che ha migliorato... ...addirittura... ...il tempo di tanti... ...di una Steira in grande spolvero... ...così come di Charlotte Call... ...picola pausa... ...poi finale... ...attesissima... ...al maschile... ...che state con noi... ...inizialmente... ...avverata... ...dico parzialmente... ...perché abbiamo scommesso... ...ancora... ...qualcosa... ...in più... ...allora... ...dipure come abbiamo scommesso... ...già che ci siamo... ...oggi... ...oggi l'avevamo visto davanti... ...questa era una pista... ...che gli piaceva tantissimo... ...e... ...infatti... ...eh... ...sta dimostrando... ...che questa pista... ...si è trovato subito... ...suaggio già da... ...dalla fase di qualifica... ...Cologna... ...Junson... ...Alverson... ...Pelleghino... ...Krog... ...Lenz Valias... ...attenzione a questo canadese... ...che è una vittoria... ...la Svezia ha due vittorie con Emil Junson... ...fanno fatica i svedesi... ...fanno fatica veramente i svedesi Silvano... ...Pelleghino... ...si fa vedere... ...a fianco adesso... ...Cologna in Talita... ...Pelleghino ne ha... ...Pelleghino ne ha... ...a fianco a Krog c'è un Cologna... ...che non molla... ...davanti alla sua gente... ...Viva... ...Il podio ci manca... ...dal 2009... ...allora... ...Cade Cologna... ...Cade Cologna... ...Krog... ...Pelleghino... ...Pelleghino che è stato già secondo... ...in Coppa del Mondalivec... ...quest'oggi in una posizione ideale... ...Parche da dietro... ...Ciallici che vanno... ...deve provare a infilarlo... ...prima del rettilineo... ...Viva... ...Se invece Storia 2... ...Krog... ...anche lui misili sotto gli sci... ...sotto i suoi piedi... ...Cologna sfortunato... ...Norvegia, Italia... ...Canada per il podio salvo... ...sorpreso nel finale... ...Parche da dietro... ...Cicco... ...Si alza Pelleghino... ...spinge a tutta... ...Ma Crog... ...questo oggi è difficile da prendere... ...Pelleghino non deve accontentarsi... ...Guai a voltarsi... ...Si volta Crog... ...Si volta Pelleghino... ...Vai avanti... ...Non guardare indietro... ...Non deve voltarsi... ...Deve guardare avanti... ...E' lì... ...a 5 metri... ...può anche farcela... ...Deve tenere giù... ...Ci manca da una vita questo... ...Podio... ...L'ultimo in Coppa del Mondo... ...Proprio il suo... ...Liberger... ...Due anni al sono... ...Alto di Schi... ...Non saliamo sul podio... ...Dal 2009... ...Ma questo oggi... ...Podio sarà per l'Italia... ...Vince un monumentale... ...Crog... ...Con un bellissimo... ...secondo posto... ...Dichico Pellegrino... ...Te lo meriti... ...Bravo ragazzo... ...Avanti così... ...Vaglia a 7-8... ...Cologna è sfortunato... ...Ma merita un 10 lode... ...Lui e la sua gente... ...Lui e tutta la Val Mustar... ...Che non ti aspetti... ...Una modo... ...Complimenti a lui... ...A Stero Saracco... ...Per la squadra spinta... ...A Silio Farneri... ...L'Italia c'è sul podio... ...Vince Krog... ...Pellegrino secondo... ...Vaglia a terzo... ...Picola pausa... ...Poi torniamo... ...Dalla Val Mustar... ...Due secondi... ...Uno su Colonia... ...Che bagarre... ...Nortico partirà da Cortina... ...Con 9 secondi... ...Arveri a 27... ...Legico fa 28... ...Cologna quest'oggi... ...Guadagna su tutti... ...Ma che bagarre sarà lì... ...Con 7 uomini... ...In pochi secondi... ...Nöckler sarà il primo dei nostri... ...A scattare da Cortina... ...A mezzogiorno... ...All'incirca di... ...Dopodomani... ...Con 2 minuti di ritardo... ...Krog a 2.07... ...Ha vinto quest'oggi... ...Dicenta a 26esimo... ...A 2.39... ...Offer 32esimo... ...A 2.52... ...Bisogna pigiare il piede... ...Se... ...Ne avremo... ...Sull'accelerazione... ...Soprattutto esperienza... ...So... ... Chacé... ...Soprattutto esperienza... ...Soprattutto... ...IMlia... ...T bibul...